E per tutto ragazzi, vi è venuto in questo nuovissimo video, come avete visto dura pochissimo, perché io sto dando a annunciarvi che tra poco inizierà probabilmente alle 3.50 o 3.50-4 inizierà una live sul mio canale su Rainbow Six Siege, quindi se avete quel gioco entrate, entriamo in una partita libera, per giocare un po' insieme, e niente, abbiamo pubblicato anche le foto su nostri profili Instagram. Non guardate lì perché abbiamo sbagliato, se abbiamo sbagliato l'orario e comunque, verso le 4, inizio la live e noi ci vediamo tra poco, ciao!